Siamo al 10 di aprile, una grandinata favolosa, guardate qua i chicchi di grandine, in che misura, siamo in una località Cischetto, a 4 km dalla Betone, ha imbiancato, c'è ancora neve e si è creato uno strato di grandine, guardate qua, guardate i chicchi, sembrava neve e invece si è cominciato a sentire battere sulle tegole, rimbalzare su questi tavoli di plastica, ecco, sentite qua i tuoni? Il cielo si sta riempendo di lampi, è bene di entrare perché sta ricominciando, da una parte ci sono le schiarite, il cielo si apre, da quell'altra è tutto coperto, ci sono 4 o 5 tipi di cielo, di conformazioni di 4 o 5 tipi di clima.